Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio di Se Fossero su FIFA Come sempre vi invito a lasciare un bel like all'inizio del video 400 mi piace uscirà un nuovo episodio E vi invito sempre a scrivermi nei commenti qualche leggenda da trattare nei prossimi episodi Ma soprattutto qualche giocatore normale, come dico sempre Perché ovviamente quelli più interessanti stanno finendo Quindi mi serve anche un po' il vostro aiuto Scrivete nei commenti se mi volete consigliare qualcuno Quindi, come sempre, due giocatori normali, sempre tra virgolette, più la leggenda di oggi Andiamo subito con il primo giocatore che ha una, diciamo sì, conoscenza del campionato italiano Cioè Giorgio Puskas, o Puskas adesso non so come si pronuncia bene il rumeno Appunto rumeno dell'Inter o della primavera dell'Inter Che ha comunque disputato qualche partita in Serie A e qualche partita in Coppa Italia E una anche in Europa League con l'Inter Mentre i suoi dati, diciamo, nella primavera, giocando con la primavera, sono altissimi 16 gol, però 0 assist in 11 partite, che è una media veramente altissima Per questo giocatore molto interessante Che, comunque molto giovane, 19 anni La carta, come potete vedere, non è il massimo della vita Lui è un attaccante Ha queste statistiche un po' basse, un po' in tutto, diciamo, tranne che nel tiro Però, essendo un giocatore bronzo non raro, è anche abbastanza normale Ovviamente, successivamente, nei prossimi anni, vedremo una carta un po' più decente di questo giocatore Lui è presente, comunque, se cercate bene, su Sofifa E poi sono presenti, ovviamente, sulle statistiche Con i vari aggiornamenti del primo maggio Tra l'altro mi sembra che c'è stato un nuovo aggiornamento Quindi gli hanno alzato un po' le statistiche Però, ovviamente, sono un po' quelle che sono Quindi direi di proseguire, andare avanti Comunque, nei prossimi video farò anche Gnucuri o Gnucuri Non so come si pronuncia sempre dell'Inter che mi è stato richiesto Comunque, andiamo con il secondo giocatore di oggi Un altro giocatore, diciamo, italiano E stiamo parlando del mitico Kevin Lasagna Non potevo non trattare questo giocatore dal cognome abbastanza simpatico Che, comunque, è uno dei fautori di questa promozione del Carpi in Serie A Questa leggendaria promozione del Carpi Di un modestissimo Carpi Anche, però, grazie al suo apporto Non ha fatto tantissimi gol, almeno da quanto vedo qui 5 gol e 1 assist in 27 partite Però formano una bella coppia Formano una bella coppia con Jerry Mbakogu Altro attaccante del Carpi Anche lui è giovane, 22 anni E ha una carta, secondo me, abbastanza interessante Perché, come potete vedere, ha un'ottima velocità È sempre un bronzo 64, però raro L'ho voluto mettere Con un ottimo tiro Poi, vabbè, il resto delle statistiche sono un po' così Se cercate bene, anche lui Sul Futed lo potete trovare Tra i giocatori della carriera Non ha il volto, quindi non è presente Su Ultimate Team Però comunque c'è sulla carriera Su FIFA in generale Mentre, andiamo a parlare Dell'ultimo giocatore di oggi Cioè, della leggenda Non potevo non trattarla Ho dovuto Quando ho deciso di farlo Ho dovuto scavalcare tutti gli altri Che volevo fare Stiamo parlando di Johan Cruyff Il profeta del gol Non potevo non trattare questo giocatore Perché è senza dubbio Uno dei migliori giocatori al mondo Che è stato uno dei migliori giocatori al mondo Anzi, addirittura è stato nominato miglior giocatore del secolo Ovviamente, parlando di giocatori europei Cruyff ha senza dubbio cambiato il calcio Quindi non può non essere inserito tra le leggende Statistiche altissime, molto belle Spero che l'anno prossimo sia su FIFA 16 Perché se lo merita tantissimo Vabbè, poi spero, io non ho l'Xbox Quindi volendo non posso neanche provarlo Però lo spero perché se lo merita tantissimo Giocatore carismatico, fortissimo Ovunque è andato, ha fatto la differenza Anche da allenatore Lui comunque ha vinto tre palloni d'oro Nella sua carriera E tre Champions League Più, se mi pare, finalista In un campionato mondiale Quindi vabbè Il suo palmarès ve lo potete andare a vedere Anche voi su Wikipedia Comunque, ripeto Un giocatore che ha innovato il calcio Ha inserito Ha creato skill Tra lui e Pelé hanno creato skill A go go Quindi merita Secondo me le 5 stelle abilità Perché appunto, come ho detto prima Ha creato nuove mosse Chiamiamolo così Mosse abilità Come si chiamano appunto su FIFA Quindi penso che sia giustissimo Avergli dato 5 stelle abilità E inoltre 4 stelle peledebole Perché lui destro e sinistro Non faceva differenza alcuna Ruolo messo a T Lui giocava Poteva giocare ad attaccante O da trequartista Quindi non cambiava niente per lui Un giocatore veramente fenomenale Il miglior giocatore Per distacco probabilmente Dell'Olanda Degli ultimi anni Comunque raga Come sempre Vi invito a lasciare un bel mi piace 300-400 mi piace Spero vi sia piaciuto appunto questo video Uscirà un nuovo episodio Ripeto Scrivetemi nei commenti Quello che volete voi Giocatori che dovrò trattare successivamente Nei prossimi video Iscrivetevi al mio canale Pagina Facebook Twitter, Instagram Tutti i link come sempre li trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao a tutti iscrivetevi al mio canale